Ciao e grazie di essere qui. Alla fine di ogni video chiedo sempre a te e tutti quelli che visualizzano i miei contenuti di condividere gli argomenti di cui parlo al maggior numero possibile di persone. Questo canale nasce proprio perché, dopo anni di esperienza in ambito informatico e formativo, vorrei creare una community di gente che si dà una mano. Sono ovviamente molto felice di ricevere complimenti e ancora più felice di ricevere critiche che aiutino il canale a crescere. Faccio tesoro dei suggerimenti e delle indicazioni che ricevo. Prendo costantemente spunto dagli argomenti di cui vorreste che io parlassi per realizzare video tecnici come questo. Mi viene spessissimo chiesto aiuto, rispondo a tutti per quanto mi è possibile e cerco sempre di dare una mano. In molti mi chiedete per esempio come risolvere problemi di funzionamento di Windows, correggere gli errori di aggiornamento di Windows Update, liberare spazio, rimuovere le app indesiderate da Windows, il famoso bloatware, installare aggiornamenti in modo semplice, vedere anche funzionalità magari un po' più per esempio la possibilità di rimuovere il bloatware e di ottimizzare in maniera veramente profonda il nostro sistema operativo. Proviamolo insieme fra un attimo. Ok, partiamo. Prima di iniziare, una piccola premessa. ClickPower, il programma che andremo a scaricare ed installare a breve è un programma molto molto completo. Fornisce diverse centinaia di tweak al sistema operativo, non sto esagerando, oltre alla possibilità di richiamare tutte le funzioni di riparazione e diagnostica del sistema e aggiungendo anche alcune altre opzioni con dei tool interni sviluppati direttamente da chi ha prodotto il software. Quindi a primo acchitto potresti sentirti disorientato e un pochino, come dire, angosciato dalla grossissima quantità di opzioni che fornisce. In questo video vedremo insieme le più importanti, ti darò un'infarinatura generale sulle varie sezioni e lascerò poi comunque a te la scelta di scegliere quali tweak applicare. È tutto comunque dettagliato in italiano e in maniera più o meno chiara, alcune opzioni sono oggettivamente incomprensibili, forse a causa di un errore di traduzione, ma anche ho verificato che la versione inglese non sempre, per esempio, è perfettamente chiara. Quindi link in descrizione, scarichiamo il tool e vediamo insieme di che si tratta. Andiamo sul sito dello sviluppatore, clicchiamo su download e prendiamo tweak power ready for windows 11. Quindi download tweak power, facciamo mantieni e andiamo ad eseguire il file appena scaricato. In qualche istante estrae tutti i file necessari in una cartella temporanea e fa partire l'installazione del tool vero e proprio. L'installazione avviene da questa finestra proprietaria, io ti consiglio di lasciare tutto attivo e attivare anche queste due ultime voci. In questo modo verrà aggiunta una voce tweak power al menu scelta rapida, quindi questo menu, e in più con l'ultima opzione potremmo controllare, potrai controllare ogni volta che il tool partirà, se sono disponibili degli aggiornamenti che verranno scaricati e installati in maniera automatica. Facciamo installa. Il processo dura veramente due secondi, abbiamo scelto di avviarlo a fine installazione, per cui in realtà ci troviamo già subito di fronte alla finestra principale. O meglio, il programma si apre nella sezione che riguarda la pulizia del sistema. In pulizia semplice ci dà una serie di ottimizzazioni già predisposte, quindi svuota il cestino, file di sistema temporanei, file temporanei internet, dati applicazioni temporanei. Come vedi non segna nulla per quanto riguarda i browser. Io ti consiglio di cliccare su pulizia predefinita, in questo modo entriamo nel dettaglio in ognuna delle varie opzioni, per esempio cliccando su pulizia del browser, qui non modificare nulla, perché non va a modificare in nessun modo i cookie, le password salvate e il contenuto dei moduli. Quindi tutta la navigazione rimane più o meno agevole con tutte le ottimizzazioni che hai fatto nel corso del tempo, quindi salvando le password, ritornati nei moduli di completamento e così via, però va a pulire quello che riguarda la cache dei file temporanei, i file non utilizzati e così via. Nella sezione pulizia del sistema invece impostazioni abbiamo la possibilità di scegliere quali opzioni di pulizia debbano essere applicate. Quindi file registro di Windows non utilizzati, file temporanei, file frammenti di check disk, quando facciamo il check disk del sistema i file diagnostici vengono salvati in file nella cartella di sistema di Windows che non vengono però rimossi generalmente. In questo modo andiamo a eliminarli. Possiamo andare a eliminare anche il nostro cestino e Windows Hold. Se ricordi quando abbiamo fatto l'aggiornamento da 22H2 alla 23H2 di Windows abbiamo detto che tutti i file non necessari alla 22H3 ma che ci permettono di tornare alla versione precedente in caso di problemi vengono salvati in una cartella che si chiama Windows Hold sul disco C. Questa cartella può contenere anche diverse decine di giga. In questo modo andiamo a eliminarla. Sarà impossibile tornare alla vecchia versione nel sistema operativo ma se tutto funziona questa cartella è fondamentalmente inutile. Qui possiamo anche andare a rimuovere tutte le informazioni relative all'utilizzo dei applicativi di Windows. Quindi se abbiamo utilizzato Bing News cancello tutta la storia di informazioni ricercate. Stesso discorso sul blocco note, sulla calcolatrice, sul calendario. Tutto ciò che abbiamo fatto utilizzando questi applicativi viene rimosso dal sistema. In questo modo ci garantiamo anche un alto livello di privacy. Torniamo un secondo indietro, andiamo su pulizia dei plugin. Allora, tutti i programmi, la maggior parte dei programmi di sistema, utilizzano dei plugin che sono delle librerie o comunque dei programmi accessori che aggiungono funzioni al programma di base. In questo modo possiamo andare a interagire su questi plugin eliminandoli dal sistema. Per esempio, qui abbiamo la possibilità di andare a interagire con Thunderbird che è il programma di post elettronica gratuito che utilizzo, eliminando i cookie, la cronologia dei download, dei file scaricati, la cache, la storia, diciamo, lo storico delle ricerche effettuate e così via. Per tutti questi programmi, quindi anche per OneDrive, per Warpad, per l'installazione dei file Nvidia e tutto il resto. Poi su pulizia del registro possiamo andare anche a pulire il registro, quindi possiamo andare a eliminare riferimenti a librerie, DLL, oggetti non più presenti, programmi installati e poi rimossi, parti di programmi che sono rimasti lì, percorsi applicazione e così via. Lui applicherà tutta, la spunta è su tutte come puoi vedere, per cui lui eliminerà tutte informazioni errate presenti nel registro relative a queste voci. Facciamo analizza ora, lui farà un'analisi e vedrà in base alle selezioni fatte prima quanto spazio verrà rilasciato e quanti problemi verranno sistemati. Quindi si tratta di aspettare qualche istante, questa procedura in genere è abbastanza veloce, specialmente se hai un disco SSD nel tuo PC, nel giro di qualche istante appunto ci dà un report. Ecco, in questo caso facciamo pulizia PC e tutto questo viene applicato. Attenzione però perché alcune delle opzioni in genere presuppongono poi il riavvio del sistema. Poi nella schermata principale, cliccando su Dashboard, abbiamo il repilogo di funzionamento del nostro sistema. In questo momento Windows è aggiornato, non ci sono aggiornamenti da fare, il nostro sistema è questo, informazioni relative alla build, alla RAM installata, al processore, alla scheda video e così via. Opzioni di funzionamento della protezione del nostro dispositivo, non c'è nulla da rilevare. Centro sicurezza, qua ci segnalerà molto probabilmente l'UAC disabilitato, esatto, quindi qua ci dà comunque un'indicazione su quello che succede. E ci dice anche che fondamentalmente il ripristino e la configurazione, quindi gestione dei punti di ripristino, è disabilitata. Per quanto riguarda il resto è tutto a posto. Adesso ci andremo ad addentrare un pochino nelle varie opzioni di menu, ma le guarderemo un po' superficialmente, perché sono veramente tanti menu e sottomenu con centinaia di opzioni di configurazione. Non riuscirei comunque in questo video a farvi vedere tutto, però vi dico fondamentalmente le opzioni principali, lasciando poi a voi la scelta, diciamo, di quali opzioni scegli, quali tweak applicare. Per quanto riguarda pulizia, l'abbiamo già visto prima perché ci riporta fondamentalmente la schermata che compariva all'apertura del programma. Per quanto riguarda finestre, qui possiamo andare a gestire tutte le impostazioni che riguardano il nostro mouse. Quindi, la velocità del puntatore, cosa fare con un click singolo o doppio click, se ritardare o meno l'esecuzione del doppio click, perché per esempio in caso di problemi fisici potrebbe essere difficile fare il doppio click velocemente, quindi possiamo scegliere anche il tempo di risposta fra un click e l'altro, affinché Windows consideri un doppio click prolungato alla stessa stregua di un doppio click più veloce. possiamo andare a cambiare i puntatori, per esempio scegliere i puntatori più grandi, più piccoli, a seconda di, per esempio, problemi di vista o semplicemente leggibilità in caso di schermo piccolo e risoluzione molto alta. Possiamo andare appunto a scegliere quanto deve essere veloce il puntatore, se attivare la scia, questa cosa ce la portiamo dietro alle prissime versioni di Windows, però magari aiuta a vedere il puntatore sempre, a renderlo visibile. Possiamo nascondere il puntatore durante la digitazione o meno, quindi farei in modo che spunta corrisponde a opzione attiva ovviamente, quindi se questa è attiva mentre stiamo digitando in un campo di testo il puntatore sparisce, sarà necessario muovere il mouse per riattivarlo. Una volta scelte le nostre opzioni anche per quanto riguarda comportamento della rotellina del mouse, sensibilità del mouse, più o meno sensibile, cliccare su applica e le applicazioni e le impostazioni vengono applicate al sistema. Stesso discorso per la tastiera, qui possiamo andare a modificare ciò che riguarda la tastiera, sugli effetti possiamo andare a gestire come le finestre attive debbano essere visualizzate, il trascinamento delle finestre attivo, quindi se dobbiamo vedere la finestra durante il trascinamento, quindi spostiamo la nostra finestra e il contenuto rimane visibile, possiamo fare in modo per risparmiare magari memorie e prestazioni che la finestra sia rappresentata come un rettangolo vuoto e si veda quello muovendo e non il contenuto della finestra. Quindi qua possiamo andare a interagire con queste opzioni e scegliere quella che ci piace di più. Stesso discorso per gli effetti, possiamo ridurre la barra delle applicazioni in modo trasparente, quindi possiamo aumentare l'opacità della barra delle applicazioni che è quella praticamente appunto la barra principale di ogni app che apriamo, possiamo impostare lo sfondo trasparente, quindi facendo un alt tab possiamo fare in modo che si possa filtrare la finestra e vedere attraverso perché mettiamo, stiamo ricopiando magari un testo, può essere utile rendere la finestra trasparente, vedere quello che c'è dietro, scrivere e poi di volta in volta farlo. Se non abbiamo la possibilità di affiancarle questo può essere utile e molte altre opzioni che riguardano appunto le finestre. Per quanto riguarda la barra delle applicazioni possiamo scegliere anche se visualizzare le applicazioni attive, quindi visualizzare il puntino qui sotto, vedete, possiamo fare in modo che il puntino sparisca e la barra sia assolutamente anonima, quindi non venga mostrato mai in nessun modo quale app sono aperte in quel momento. Possiamo mostrare la ricerca, possiamo fare altre personalizzazioni. Area di notifica invece ci permette di visualizzare praticamente il palloncino, lo chiamano palloncino ma sarebbe il, ecco vedete il pop-up che compare, questo affare qui, ogni quanti secondi visualizzarlo affinché poi sparisca in maniera automatica dopo 4-5 secondi e così via. Possiamo visualizzare anche il mese, lunare, piuttosto che i secondi a fianco all'ora, o ora, minuta, seconda che si aggiorna in tempo reale. Possiamo scegliere di fare questo. Per quanto riguarda le miniature possiamo scegliere anche quanto le icone rappresentate in basso debbano essere grandi, dimensione, ritardo di visualizzazione in anteprima, quindi possiamo fare un sacco di roba. Nel menu start possiamo rimuovere anche per esempio il pulsante di disconnessione, blocco del computer, perché per esempio vogliamo che l'utente non possa in nessun modo disconnettarsi dalla sessione o bloccare il PC. Possiamo impedire che il PC venga arrestato, quindi scompare per esempio anche il tasto di riavvio, di arresto del PC e così via, in base alle scelte. Selezioniamo tutto quello che ci interessa e come sempre facciamo applica. Tornando indietro, su comunicazione possiamo andare a impostare le opzioni di rete, quindi possiamo fare in modo per esempio che questo PC non sia visibile nella rete su cui stiamo lavorando, mettiamo che la macchina debba lavorare ma non debba essere in nessun modo raggiunta da altri utenti, anche avendo magari delle cartelle condivise, gli utenti non la possono vedere e magari ci può accedere solo chi ha il path preciso della cartella condivisa. Possiamo cercare automaticamente nella rete altri dispositivi, possiamo fare in modo che ciò non avvenga perché mettiamo che questa macchina non debba stampare in nessun modo, arriva un utente, si collega, accede alla rete e si stampa quello che vuole. In questo caso possiamo fare in modo che non possa trovare null'altro in rete che non sia magari una cartella condivisa impostata manualmente. sulle avanzate possiamo utilizzare il plug and play, quindi possiamo fare in modo che collegando dispositivi questi vengano riconosciuti e vengano scaricati automaticamente i driver da Windows Update e così via. Impostare l'ora di internet, qui possiamo scegliere come internet aggiorni l'ora e da quale server, cliccando su sincronizza ora l'ora viene aggiornata in tempo reale, viene forzato l'aggiornamento. Per quanto riguarda internet, possiamo fare in modo che l'utente che termina la sessione di lavoro, quindi non so, io sto lavorando sul mio pc, mi scollego perché deve arrivare un altro utente, l'utente che arriva, per esempio non deve avere internet, ma deve limitare semplicemente la sua attività di utilizzo a un programma specifico. In questo modo possiamo fare in modo che disconnettendoci la connessione internet per il nuovo utente venga interrotta. Su Internet Explorer, che non c'è in questo caso, su Firefox e tutto il resto, possiamo impostare le opzioni di privacy, stesso discorso per la privacy. Possiamo andare a eliminare alcune informazioni che riguardano l'utilizzo dei browser. Sulla sezione privacy invece andiamo a gestire tutto ciò che riguarda Windows, quindi aggiornamenti di Windows, possiamo fare in modo che il sistema verifichi la presenza di aggiornamenti in maniera automatica, oppure non cerchi mai gli aggiornamenti, quindi il sistema non si aggiorni mai. Possiamo anche distribuire gli aggiornamenti a altri prodotti Microsoft, quindi Windows non cercherà solo gli aggiornamenti per se stesso, ma anche per altri prodotti Microsoft, tipo Visual Studio, Office e così via. Questa opzione è importante se avete anche altri applicativi di Microsoft che utilizzate. In questo modo con Windows Update troverai gli aggiornamenti di tutto e avrete sempre tutte le app aggiornate. Possiamo ripristinare gli aggiornamenti file, qualora abbiamo messo qualche aggiornamento in sospensione, disabilitato, ok, possiamo ripristinarlo. Su traccia tracce, bellissimo, abbiamo la possibilità di eliminare tutte le tracce del nostro passaggio sul PC. Quindi possiamo eliminare le tracce che lasciamo utilizzando programmi specifici, quindi possiamo eliminare i file aperti, cartelle aperte, documenti modificati e così via. Oltre che cancellare le tracce relative a Internet Explorer, in questo caso c'è solamente Internet Explorer, perché per gli altri browser c'è proprio una sezione dedicata che vedremo a brevissimo. Possiamo fare in modo che la cache di navigazione, quindi sia i siti visitati, lo storico e così via, venga cancellata alla chiusura del browser. Per Internet Explorer, ovviamente, se lo utilizziamo, qui possiamo abilitare anche lo Smart Screen, che permette di filtrare i siti con contenuti non adatti a bambini o persone che contenuti non vogliono vederli, abilitandoli e che questi siti non vengono aperti. Il lettore multimediale ci permette di gestire il comportamento del media player, diciamo, il lettore multimediale integrato in Windows. Possiamo fare in modo che non venga salvato l'elenco dei file visualizzati, che non venga salvato l'elenco dei CD e DVD riprodotti e soprattutto che non venga mostrato magari l'elenco dei file musicali riprodotti. Per quanto riguarda invece la seconda sezione, possiamo fare in modo che il nostro lettore multimediale non possa eseguire script caricati dall'esterno, per esempio da siti web, da pagine, fare in modo che file progetti da licenza non possano essere avviati, potrebbe scaricare magari che acquistiate, potrebbe capitare che acquistiate un file da Google, per esempio, che richiede un'attivazione particolare con un file di licenza o con un login particolare, in questo caso quel file non potrà essere visualizzato. Stesso discorso per l'download automatico dei decoder, magari alcuni file tipo divx oppure file mp4 hanno qualche decoder particolare per poter essere riprodotti, in questo caso potremmo fare in modo che il lettore multimediale non possa scaricare quei codec e quindi il file non possa essere visualizzato. Inoltre, l'ultima opzione ci permette di impedire che il browser web, o meglio la pagina web che il browser sta visualizzando, non possa identificare il nostro lettore multimediale e fare quindi statistiche di utilizzo. Se la segnalazione di errori, semplicemente ci permette di abilitare o disabilitare la segnalazione degli errori, mostrare una finestra di dialogo del problema che si è verificato oppure non mostrarla, disattivare l'invio delle segnalazioni a Microsoft, oppure fare in modo che i messaggi di errore non possano essere inviati neanche quelli relativi a Internet Explorer. Poi, nella sezione Edge Chromium, possiamo impostare tutto ciò che riguarda Edge Chromium, quindi dal tema, può essere chiaro, scuro, scelta, come vogliamo, anche la barra dei preferiti se mostrare i preferiti, mostrare la barra di avvio rapido e così via. Sulle impostazioni avanzate possiamo fare in modo di scegliere che il nostro browser, una volta aperto Edge, vada ad aprirsi su una pagina specifica. Mettiamo di avere un'attività tipo un hotel, vogliamo fare in modo che la pagina principale sia quella, non andando nella modifica del browser, ma direttamente da questo programma, possiamo fare in modo che la pagina principale sia una pagina che noi scegliamo. Stesso discorso per il path di salvataggio dei file, possiamo bloccare i cookie e fare altre impostazioni. Per quanto riguarda la privacy, qua possiamo scegliere cosa eliminare dal browser una volta che lo chiudiamo. Quindi possiamo eliminare la cronologia delle esplorazioni fatte, i download, i cookie aperti, le immagini visualizzate e così via, comprese anche le password. Se ci dimentichiamo di eliminare le password oppure se clicchiamo erroneamente su sì per salvarle senza dover andare in Edge Chromium nella sezione specifica delle impostazioni, password e così via, possiamo eliminare tutto alla chiusura del browser. Quindi è molto molto figo perché browser di un pc non nostro, per esempio, eseguendo questo programma, se abbiamo la possibilità, andiamo ad eliminare tutto e non lasciamo nessun tipo di traccia. Stesso discorso per Chrome. Da questa finestra possiamo farlo direttamente per Chrome. Quindi gestire le impostazioni, quale pagina aprire all'avvio, privacy e tutto il resto. Poi tornando indietro possiamo andare sulla parte che riguarda le impostazioni di sistema. Qui possiamo andare a modificare gli effetti visivi, quindi mostrare i contenuti della finestra durante il trascinamento, ossia questa funzionalità che ci permette di vedere sempre cosa c'è nella finestra quando la stiamo spostando. Possiamo andare anche a mostrare, per esempio, le ombre del puntatore del mouse per far sì che questo sia più visibile, specialmente su sfondi chiari. In questo caso, vedete, il mio puntatore è l'ombra. Le opzioni vengono attivate e disattivate, facendo applica, se il check è attivo vengono attivate, se non è attivo ovviamente vengono disattivate. In visualizza possiamo anche andare a scegliere come le finestre devono aprirsi e chiudere, se mostrare un'animazione, un effetto risolvenza oppure roll up, facendo salire e scendere per esempio pezzi della finestra come se fosse aperta tipo una pergamena. Possiamo mostrare anche, per esempio, le caselle di ripiro con scorrimento uniforme, animazioni, elenche e discesa, quindi quando clicchiamo un elenco, un'animazione che ci mostra l'elenco che si apre. Sono tutti effetti molto carini da vedere che però potrebbero impattare sul sistema. Da questa finestra, lo vedremo in seguito dove, possiamo eliminare tutti questi effetti e rendere l'utilizzo di Windows un pochino più, come dire, pratico. Nel senso, a discarpito dell'aspetto visivo, andiamo a preferire le prestazioni. Gli aspetti del menu, qui possiamo andare anche a... Scusate, gli aspetti del menu possiamo andare a scegliere, per esempio, come i menù debbano aprirsi, dissolvenza alle voci del menu. Vedete che in questo caso, vedete che sia un effetto di dissolvenza, non compare di impatto, ma piano piano viene generato il menu. Possiamo andare a intervenire anche su tutte queste animazioni e gli effetti vari. Possiamo andare a smussare i caratteri per far sì che siano più leggibili, quindi metterci un gerontialias, quindi per rendere più armoniche le forme dei caratteri. Possiamo andare addirittura a cambiare i caratteri del sistema, cambiando il tipo di font per ogni, diciamo, oggetto che prevede l'utilizzo di un font, oltre che la dimensione. Sei attento quando fai una modifica a questi parametri, perché molti programmi non sono compatibili con dimensioni di font strane, alternative. Quindi fai queste modifiche generalmente con molta attenzione. È preferibile intervenire sulla personalizzazione della risoluzione dello schermo e la percentuale di zoom, piuttosto che andare a cambiare queste voci singolarmente. Tipi di file ci permette di mostrare, apri prompt dei comandi qui e mostra PowerShell qui. Allora, Windows 11 non ha di default la possibilità, una volta aperta la cartella, con il tasto destro, di avere questa voce, apri nel terminale. Con questo programma possiamo andare a aggiungere, apri prompt dei comandi qui e apri PowerShell qui. Ci è molto utile quando magari utilizziamo molto degli script che hanno a che fare con delle cartelle e vogliamo aprire direttamente il prompt lì dentro, senza dover scrivere manualmente tutto il percorso completo. Quindi possiamo fare mostra e invia nel menu contestuale oppure eliminarlo. Questo invia possiamo eliminarlo. Possiamo fare anche mostra copia e incolla direttamente. Se vogliamo fare copia e incolla di questa cartella, vedete, dobbiamo fare copia, incolla o così via. Possiamo aggiungere nel menu contestuale copia direttamente, quindi prenderà questa cartella e la copierà sul posto facendone un duplicato. Molto molto carino. Oddio, si può fare anche facendo così, trascendolo leggermente e facendo copia qui. Però fa più figo averlo nel menu contestuale, diciamo così. Poi, menu nuovo. Quando andiamo ad avere menu contestuale nuovo, possiamo andare ad aggiungere voci qui dentro. Vedete, c'è Archivio Mirror Zip e Retro Platform RP9. Qui possiamo aggiungere le voci perché, per esempio, vorremmo poter lanciare un programma direttamente dal tasto nuovo. Oppure fare nuovo file Photoshop, aprire un file vuoto, cliccare, aprire Photoshop, senza dover avviare il programma, generare il file e così via. Quindi possiamo creare uno shortcut a un file e a un programma direttamente dal menu contestuale. Questo è decisamente utile. Apertura file, qua possiamo scegliere cosa succede quando cerchiamo di aprire file che non hanno un programma associato in Windows. In genere il programma non viene aperto, oppure viene aperto col programma sbagliato, oppure, vi faccio un esempio. Creiamo un documento di testo e lo chiamiamo ciao.ale. Formato ale, ho appena creato un formato testi, ragazzi. Formato ale. Vedete, l'icona cambia, non ha identificato il formato puntuale, non c'è un programma legato ai file puntuale. Quando clicco mi apre questa roba qua. Possiamo fare in modo che, per esempio, associare al formato ale direttamente un programma che si debba aprire in modo specifico. Sulle avanzate abbiamo anche la possibilità di eliminare il testo scorciatoia dai collegamenti. Allora, se io faccio un collegamento di questa finestra, lui mette soft, nome della cartella, trattino collegamento. Con questa opzione ho la possibilità di avere soft senza scritta trattino collegamento. Questa freccina davanti mi identifica il collegamento, quindi in teoria non c'è bisogno che sia anche scritto che è un collegamento. Lo vedono all'icona. Questa opzione ci permette di elevare quella funzionalità. Poi in opzioni cartella possiamo visualizzare gli archivi zip e i file cab come se fossero cartelle del sistema. In questo momento, se non abbiamo programmi aggiuntivi tipo un raro winzip, il sistema apre una cartella, mostra dentro il contenuto e quello è il contenuto del nostro zip. Cliccando sullo zip si apre direttamente una finestra col contenuto dell'archivio. Quindi un pochino più pratico. Su elenco possiamo mostrare una serie di informazioni sui file, quindi selezioniamo il file, lasciamoli il mouse e si apre una finestra con tutte le informazioni specifiche su quei file e anche sulle cartelle. Questa cosa non funziona benissimo perché sulle cartelle molte volte non ce la fa a calcolarlo. Questa opzione migliora un pochino le prestazioni. Selezione ci permette di indicare o meno se questo box deve comparire, se il colore del box di selezione deve essere azzurro oppure possiamo cambiare il colore. Se durante la selezione vedete che in trasparenza si riesce a vedere il nome delle cartelle che sto selezionando. Possiamo anche cambiare questa roba rendendolo completamente opaco facendo in modo che non si veda che selezione sta facendo. Non so che senso abbia ma possiamo farlo. Per quanto riguarda desktop qui abbiamo le icone che si possono visualizzare sul desktop. Possiamo aggiungere anche per esempio stampanti. Quando ci servisse avere le stampanti i quali possiamo andarle ad aggiungere. Nascondi unità facciamo in modo che un'unità specifica del sistema non sia visibile nell'esplorare risorse. Rimane attiva e funzionante ma semplicemente non si vede lì. Per poterla invocare apriamo un esplorare risorse e scriviamo il percorso nella barra degli indirizzi. E a quel punto accediamo alla cartella. Può essere utile quando vogliamo che magari una cartella non sia visibile direttamente. Lettore unità ci permette di gestire come esplorare risorse e visualizza i nomi delle cartelle. Per esempio vedete qui mette hdbd, hbcd, nome di tra parentesi. In questo modo possiamo fare in modo che compaia d e poi il nome del file o della cartella. In questo caso possiamo andare a scegliere l'ordine con cui visualizza nome dell'unità e lettera. Oppure lettera e nome dell'unità. Barra degli indirizzi. Qui possiamo anche andare a gestirci il completamento automatico a mano che scriviamo. La visualizzazione di un menu a tendina. Se stiamo scrivendo il nome di una cartera o di un file e ce ne sono diversi con lo stesso nome. Si apre una tendina, ce li fa vedere tutti e noi possiamo selezionare il file che vogliamo. Anche qua le personalizzazioni sono puramente personali. Una volta scelto quello che vi interessa fate applica. Ricordando che check attivo vuol dire funzionalità attiva. Poi a questo punto andiamo su amministrazione, accesso utente. Qui possiamo fare in modo che il nostro Windows una volta inserendo i dati di login compaia solo se sono presenti gli script e questi script sono eseguiti completamente. Mi spiego meglio. Capita molte volte in alcune aziende che seguo che il PC all'avvio debba eseguire una serie di operazioni che sono racchiusi in uno script. Quindi il PC parte, lo script viene aperto, riga per riga viene eseguita, tutti i comandi sono eseguiti e poi viene visualizzato il sistema. Può capitare che Windows sia più veloce degli script. In quel caso un utente potrebbe cliccare sulla finestra di chiusura del prompt DOS e bloccare lo script. In questo modo invece il sistema aspetterà che prima tutte le operazioni vengano eseguite e poi viene visualizzato il desktop. In ambito aziendale può essere utile. Login mostra tutti gli utenti sulla pagina di accesso all'avvio. Allora mettiamo che il mio PC abbia 4 utenti, quando vado a caricare il sistema mi compare Ale, Giorgio, Marco, Antonio. In questo caso io posso fare in modo che non compare e non compaia nessuno dei box degli utenti con tanto di foto. L'utente avrà solamente un box per inserimento a nome utente e uno per la password, inserendoli il sistema partirà con l'utente specifico. Quest'anno di privacy. Stesso discorso per le immagini dell'utente e così via. Possiamo anche addirittura fare in modo che venga caricata un'immagine di sfondo specifica per l'utente e possiamo impostare tutto. Possiamo fare in modo che non vengano proprio del tutto caricate volendo. Sui messaggi, allora qui possiamo mostrare un messaggio di benvenuto all'utente. Ciao Alessandro, benvenuto e così via. Poi su azionamenti, questo è fighissimo, possiamo fare in modo che quando lo spazio disco sta arrivando al limite, Windows non ci avvisi assolutamente che il disco si sta riempendo. In produzione automatica, quando inseriamo un'unità disco, una chiavetta USB o un dispositivo, il sistema apre quella finestra tipica che ci chiede cosa vogliamo fare con il nuovo device o il nuovo dispositivo inserito. In questo modo possiamo fare in modo che sia monitorato tutto quello che viene fatto e soprattutto possiamo fare in modo che senza che ci chieda nulla, i CD musicali magari vengono riprodotti con un programma specifico, diciamo, selezionabile dall'utente, che si ottiene premendo qui cambia. Ok, utile. Cache di memoria. Allora, questo è importante perché fa sì che il sistema possa o meno gestire in maniera autonoma le risorse di memoria associate a un programma. Mi spiego meglio. Windows ha un sistema di prefetch che si occupa di analizzare i programmi che vengono utilizzati più spesso e a quei programmi da una priorità maggiore. Nel senso che, se io utilizzo tantissimo Chrome, quando lancio Chrome il sistema da una priorità più alta a Chrome, gli assegna più memoria possibile e più core del processore, per far sì che quello che io uso di più parta prima e sia più performante. In questo modo possiamo fare in modo che il sistema non possa più fare questa gestione in maniera autonoma, ma tratti tutti gli applicativi alla stessa maniera. Da un lato abbiamo la possibilità di avere tutte le prestazioni disponibili per ogni programma che parte. Dall'altro abbiamo un'occupazione di memoria più bassa, nel senso che comunque memoria e processore sono sempre più liberi, come detto, ma abbiamo anche una lentezza mare di esecuzione più evidente. In questo modo Chrome partirà prima, se facciamo in modo che tutti gli applicativi partano alla stessa maniera, Chrome partirà magari insieme a tutti gli altri. Se la macchina è particolarmente lenta, Chrome impiegherà più tempo a partire, semplicemente quello. Qua possiamo dire anche se il PC funge da server, puoi ottimizzare la cache in modo che sia utilizzata al minimo la memoria di utilizzo dei programmi, quindi i programmi partano tutti quanti appunto allo stesso livello, con le stesse prestazioni, quindi risparmiando memoria. Sulla manutenzione possiamo fare in modo che... Cosa succede durante il boot? Durante il boot fondamentalmente il sistema viene defragmentato in maniera automatica. Parte il PC, parte la defragmentazione e Windows defragmenta il disco. Sui dischi SSD la defragmentazione non deve mai essere eseguita, perché il disco SSD è soggetto a usura durante la defragmentazione. Sui dischi meccanici è necessario farla periodicamente. Certamente non è l'avvio, perché se il disco è particolarmente frammentato, la defragmentazione impiega magari un'ora e tu aspetti un'ora che il sistema parto. Quindi assolutamente sconsigliare. Qua si possono impostare anche disabilitazione dell'ibernazione, non mostrare suggerimenti background per i pop-up che compaiono sulle app. Sapevi che potrei fare questo? Barra delle applicazioni. Qua possiamo gestire tutto ciò che riguarda la barra delle applicazioni. Quindi fare in modo... La cosa più importante che c'è in questa finestra comunque è questa. Possiamo fare in modo che, per esempio, ogni applicativo si apra in un'istanza di Explorer completamente separata. Cosa succede? Succede che se stiamo aprendendo quattro programmi, avremo quattro Explorer aperti con le istanze di quattro programmi. Se ne blocca una, cosa succede? Quell'applicativo si blocca, quell'istanza termine, tutte le altre rimangono in funzione. Nella gestione standard di Windows, se noi stiamo lavorando su Explorer Risorse, Explorer Risorse si blocca, Explorer muore con Explorer Risorse, l'interfaccia si riavvia, Explorer Risorse si riavvia, e i programmi non sono più visibili nella barra delle applicazioni. In questo modo ogni programma ha il suo processo separato e se muore un processo, quella sessione termina e tutte le altre rimangono attive. Questo potrebbe essere abbastanza utile. In caso di errore cosa fare? Allora, disabilitare è l'altoparlante di sistema. Quando c'è un errore, bim, 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 che rompe le scatole. Questo lo disabilita. E soprattutto, cosa succede? Se riavviare il sistema automaticamente oppure visualizzare un messaggio d'errore schermata blu e lasciare il PC lì, senza che si riabbina in automatico. Può essere utile quando avete qualcuno che gestisce il PC per poter fare una foto, magari, oppure chiamare e dirgli la natura dell'errore. Dalla schermata blu difficilmente si capisce lì che si tratta, e a dire il vero. Però, vabbè, può essere una cosa in più. Gestione e avvio. Qua, invece, abbiamo la possibilità, qualora il nostro sistema abbia un dual boot, di scegliere quale sistema operativo deve partire per prima. Quindi, senza dover fare combinazioni strane di tasti, qua possiamo dire se Windows 11 o Linux debbano partire prima uno o l'altro. Sul sistema, invece, abbiamo informazioni sul nostro sistema. Possiamo andare a modificare le caratteristiche del sistema. Per esempio, possiamo agire su quel messaggio, o meglio, possiamo abilitare o disabilitare il messaggio che ci compare quando cerchiamo di eseguire applicativi da, diciamo, sorgenti non verificati. Ci compare un messaggio e, guarda, questo applicativo non è stato verificato da Microsoft, vuoi eseguirlo? A questo punto possiamo, ceccando o levando il check da questa voce, abilitare o meno quella finestra. Possiamo anche, per esempio, attivare e gestire l'attività in Windows. Quindi, direttamente, gestire l'attività, sempre possiamo fare in modo che non compaia, se vogliamo che non ci sia la possibilità di avere informazioni specifiche sul nostro sistema. Possiamo attivare e trovare il mio dispositivo o disabilitarlo. Quindi, una serie di configurazioni. Per quanto riguarda, invece, le cartelle speciali, qui abbiamo un elenco di cartelle speciali presenti nel sistema e il loro percorso di rete. E il loro percorso su disco, scusate. Quindi, programmi si trova in C, program files, program x86, che contiene i file della vecchia versione 32-bit di Windows, si trova in C, program x86, video in C, user, nome dell'utente, videos, e così via. Quindi abbiamo template, send to, che ci permette di aggiungere, per esempio, delle scorciatoie per fare invia e mettere dei percorsi specifici. Se vogliamo che, per esempio, delle cartelle vengono inviate direttamente nel NAS, creiamo una cartella di rete condivisa nel sistema, che si chiama, per esempio, NAS, agendo in questa cartella e creando un collegamento lì dentro, avremo la possibilità di inviare tutti i nostri file direttamente nella cartella del NAS specifico. Quindi questo è abbastanza utile. Per quanto riguarda riga di comando, qui abbiamo la possibilità di scegliere cosa accade quando utilizziamo il prompt dei comandi e scriviamo dei comandi. Quindi, in genere funziona così. Mettiamo, allora, io apro un prompt dei comandi, ok. Se voglio andare nel desktop, io scrivo CD, premo DE, premo il tab, e lui automaticamente identifica desktop. Faccio invio e mi porto direttamente nel desktop. Questa cosa la si può fare tramite Power Toys o altri programmi del genere, oppure utilizzando questo tipo di funzionalità. Qua si può scegliere addirittura se usare il tab, che è quello standard, oppure usare Ctrl A, Ctrl B, Ctrl D, una sequenza di combinazioni di tasti particolari, sia per i file che per le cartelle. Stesso discorso per PowerShell. Si possono fare delle impostazioni, opzioni di visualizzazione di PowerShell, quindi personalizzazione dell'interfaccia e così via. memoria virtuale. Questa parte è importante, perché Windows gestisce in maniera autonoma la memoria virtuale. Quando abbiamo, soprattutto in macchine con poca RAM, può capitare che aprendo alcuni programmi, tipo Photoshop, AutoCAD, che richiedono molta più RAM di quanta se ne abbia, il programma stesso utilizzi il disco del sistema come memoria virtuale. In questo modo possiamo fare in modo che si possa dedicare una dimensione massima riservata al programma per quanto riguarda la gestione di memoria virtuale, oppure far fare tutto a Windows. Il consiglio che evito è di far fare a Windows, perché impostando dei valori non corretti potremmo avere un file troppo piccolo o troppo grande, e quindi sprecare spazio e non averne. Per quanto riguarda le impostazioni di Windows, ragazzi, qua vi lascio sbizzarrire. Ci sono veramente impostazioni di qualunque tipo. Ma la cosa interessante è che questa finestra, più che settare le impostazioni del sistema direttamente, ci manda nella parte del pannello delle impostazioni relative. Mi spiego meglio. Mettiamo che vogliamo attivare Windows Backup. Ci basterà selezionare Sync Your Settings, fare Apri, e ci porterà nella finestra, nella sezione specifica delle impostazioni del sistema, Account Backup. Mettiamo di voler, per esempio, attivare le mappe offline. In questo caso io le ho tolte, ma cliccando su Apri, Apri Google Maps. Mettiamo di voler parlare con Cortana, che per fortuna è stato eliminato. Clicchiamo e apri Cortana. Autoplay. Clicchiamo e andiamo su Apri. Ci porta nella sezione specifica del Bluetooth e dispositivi, Autoplay. Qui possiamo gestire cosa succede quando inseriamo un'unità rimovibile, cosa succede quando inseriamo una scheda di memoria, e così via. Quindi questi sono dei percorsi alla configurazione delle funzioni di sistema direttamente da questa interfaccia. Molto, molto utile. Per quanto riguarda Esploratore, questa è bellissima, sarebbe fondamentalmente Esplora File. Qui possiamo gestire il comportamento di Esplora Risorse. Allora, in generale, quando apriamo una finestra, capita che questa finestra si apra direttamente in una finestra nuova. Cioè, clicchiamo su una cartella, la cartella si apre in una finestra. Se apro due cartelle, vengono aperte due finestre specifiche, e così via. In una macchina magari con poca RAM, è utile poter aprire una sola finestra che rappresenti tutte le cartelle che apro in sequenza. Quindi in questo modo posso dire che cliccando su Soft si apre una finestra per Soft, cliccando su BT, in quella stessa finestra, il percorso si sposta in BT. Oppure posso scegliere di avere due finestre separate, una per Soft e una per BT. Questo è il comportamento che possiamo scegliere. Possiamo anche poi eliminare la cronologia di tutte le finestre aperte, fare l'accesso rapido e così via. Possiamo anche scegliere come visualizzare le immagini, le miniature, quindi tutta la configurazione che riguarda il File Explorer. In Visualizza, anche qua ci sono una serie di opzioni, possiamo visualizzare dei pop-up specifici sul file che ci mostrano l'informazione data di creazione, nome, percorso, cartella, dimensione anche sulle cartelle, e fare tutta una serie di configurazioni aggiuntive. Questo potrebbe essere utile, lascio a te la scelta di scegliere le opzioni che più ti interessano. Per quanto riguarda il Cerca, qui abbiamo la possibilità di determinare come Windows Search si deve integrare con la barra di ricerca. Tanto per cominciare, qui in altro possiamo scegliere se far visualizzare file per adulti oppure file per private, magari personali, direttamente nella barra di ricerca. Possiamo anche fare in modo che Windows non crei mai un indice di ricerca. Allora, per velocizzare le operazioni, Windows crea un database nel quale indica tutti i file presenti sul tuo disco. Quando effetti una ricerca, lui va a verificare se il file che stai cercando oppure un file che abbia un nome simile è già presente nel suo database. In questo modo è evidente che la ricerca è molto più rapida, perché se cerco Ale, c'è un Ale, lo trova in tempo reale. In questo modo posso disabilitare questo database che occupa molto spazio sia su disco che su memoria per la ricerca. Quindi quando vai a inserire un nome, lui va a prendere file per file e va a fare il confronto con quello che stai digitando. Ovviamente, memoria ridotto, uso memoria ridotto, uso disco ridotto, tempi di ricerca molto molto più lunghi. Quindi questa qua è a tua discrezione. Successivamente puoi scegliere se includere le directory sistema nella ricerca, se includere i file zip, cab e archivi in generale nelle ricerche, questo te lo consiglio, perché altrimenti troverà solamente file di testo. E poi soprattutto puoi scegliere anche se non indicizzare le cartelle pubbliche, quindi per ridurre quel database di prima, se indicizzare solo gli elementi memorizzabili nella cache, quindi solo quegli elementi che sono effettivamente gestibili dal sistema, se deve gestire anche gli allegati delle mail per farti cercare anche in Outlook oppure nei programmi tipo Windows Mail o Thunderbird. Discrezione personale. Seleziona le voci che ti interessano e fai Applica. Per quanto riguarda Context Menu qui abbiamo la possibilità di personalizzare il menu contestuale che è questo. Possiamo aggiungere anche per esempio la voce Estrai tutto per i file zip nel menu contestuale. Selezioni un file zip, tasto destro, Estrai tutto e ti crea una cartella. Possiamo fare anche il discorso FileCab nel senso che un FileCab che è un file di archivio di Windows. Possiamo fare in modo che compaia la voce. Questa in realtà c'è già sull'installazione del FileCab oppure fare in modo che questa voce non compaia. Una cosa importante è che alcune di queste funzioni sono già disponibili nel sistema. Tu puoi solamente attivarle se non sono attivate o disattivarle se sono già attive. Quindi questo attenzione quando fai una modifica perché potresti disattivare una funzione che non c'è e magari quella funzione poi ti servirà in futuro. Altre cose vabbè mostrare le voci del menu contestuale condividi con Skype qua puoi veramente sbizzarrirti nella configurazione. Area di navigazione qua ti permette di gestire fondamentalmente quali icone mostrare nell'area di navigazione quindi quella qua sotto per intenderci è sullo schermo. Quindi puoi mostrare dispositivi estampanti nella vista di questo PC l'area di navigazione quindi qua sotto questo PC potresti visualizzare dispositivi estampanti oppure non visualizzarle mostrare l'accesso rapido di navigazione quindi mostrare questa parte di accesso rapido qui sotto potresti scegliere di non volerla visualizzare in questo caso verrà eliminata. Multitasking allora questo permette di gestire in maniera un pochino più specifica le finestre di sistema per esempio quando due finestre sono vicine c'è la possibilità di agganciarle ossia di attaccarle fisicamente come se fossero magnetiche una all'altra e trascinarle in contemporane insieme questa opzione gestisce tutta questa sezione gestisce tutta l'opzione che riguarda la gestione delle finestre magnetiche collegate l'una alle altre possiamo attivare per esempio qui vicino al tasto di massimizzazione anche la possibilità di attivare il magnetismo delle finestre e quindi farle attaccare e così via possiamo scegliere anche come gestire le finestre ancorate se due finestre sono avvicine e hanno la stessa dimensione ne ridimensiono una anche l'altra viene ridimensionata di conseguenza questo potrebbe essere abbastanza utile per quanto riguarda la sicurezza qua ci dà fondamentalmente un riepilogo della situazione attuale di sicurezza del pc quindi ci dice che defendere attivo è aggiornato che il firewall è attivo e sta funzionando e qua ci dà un riepilogo di tutte le funzionalità di sicurezza io l'uac non ce l'ho abilitato sarebbe quella finestra che ti chiede ok sei sicuro di voler fare questa operazione potrebbe essere dannosa e tutte le aree del centro sicurezza di windows non sono attive perché ovviamente l'uac è disabilitata firewall ci permette di gestire il firewall per le reti pubbliche private e così via abilitando disabilitando aggiungendo regole no però abilitando le notifiche disabilitandole oppure semplicemente attivando disattivando il firewall gli aggiornamenti di windows qui ci permette di gestire come windows si aggiorna quindi possiamo distribuire o meno quindi attivare o disattivare la ricerca e l'installazione di aggiornamenti per altri prodotti microsoft ripristinare aggiornamenti magari disabilitati o nascosti disabilitare l'aggiornamento di driver può capitare per esempio che è un vecchio pc che funziona per miracolo con la nuova versione di windows 11 se vai ad aggiornare il driver perché la scheda video è molto vecchia magari windows 11 si blocca in questo modo può impedire che tutti i driver si aggiornino in maniera automatica poi per quanto riguarda controllo browser app qua è la possibilità di impostare windows defender affinché controlli oltre ai siti web sui quali navighi anche le app che installi puoi togliere o attivare questa opzione questa è utile perché molti programmi magari richiedono che l'antivirus sia disabilitato temporaneamente e poi riattivato in seguito qua puoi attivare e disattivare la funzione di controllo del defender su rete hai la possibilità di avere informazioni sulla tua rete windows defender ti fa vedere fondamentalmente un riepilogo diciamo dell'attività oltre che darti la possibilità quindi windows defender è attivo di modificare alcune opzioni per esempio puoi non so abilitare la scansione rapida e pianificata puoi ridurre l'utilizzo di cpu nel senso defender è un programma che ha una priorità abbastanza alta quando lo attivi l'attività di defender impatta notevolmente sia sulla ram che sul processore in questo modo puoi fare su pc magari un pochino più vecchi in modo che quando attivi i defender questo non occupi molto la cpu abbia una priorità più bassa occupi meno il processore meno ram e quindi il pc sia più veloce non sia completamente bloccato magari mentre stai facendo una scansione di sistema poi modifichi le impostazioni e come sempre applichi nella sezione sistema andiamo a gestire tutto quello che riguarda appunto il sistema non lasciatevi ingannare i titoli internet explorer privacy cromium firefox non c'entrano assolutamente nulla cliccando su internet explorer in realtà andiamo nella gestione del software installato da questa finestra possiamo andare a selezionare i programmi che abbiamo installato e andarli a rimuovere oppure quando è prevista la possibilità fare la riparazione poi nella seconda tab vediamo tutti i programmi che abbiamo o meglio tutti gli aggiornamenti del sistema che abbiamo installato con la possibilità di andarli a rimuovere quindi mettiamo che questo aggiornamento crei dei problemi al nostro pc facciamo all install e quell'aggiornamento verrà rimosso su store apps abbiamo la possibilità di andare a vedere tutto il bloatware che abbiamo installato tutti gli applicativi che arrivano dallo store e quindi che riguardano nel sistema mettiamo per esempio di avere non so meteo e non vogliamo rimuoverlo possiamo fare uninstall il meteo verrà rimosso stesso discorso microsoft 365 office quindi questo strumento è fenomenale anche per fare il deblot diciamo degli applicativi quindi è veramente un centro di servizio totale per gestire tutti gli aspetti del sistema sia funzionamento privacy ottimizzazione e anche debloting quindi ci interessa rimuovere paint uninstall e così via poi andiamo su privacy e a questo punto abbiamo la possibilità di andare a gestire i programmi che partono con il sistema quindi abbiamo app questa app di intel parte con il nostro windows abbiamo xbox sarebbe molto probabilmente il tool che gestisce la xbox bar e così via teams che parte col sistema lo possiamo andare ad eliminare attenzione vi ricordo che anche questa volta qui non sono necessariamente indicati i programmi che partono col vostro sistema sono indicati i programmi che ci sono e che potrebbero essere configurati quindi qua eliminate quello che non vi interessa fate elimina oppure sposta in se volete evitare che questi vengano lanciati per esempio selezionando selezionando teams e facendo sposta in possiamo fare in modo che questi qua vengano spostati per esempio nella sezione che riguarda un utente corrente oppure tutti gli utenti fare in modo magari che parta solo con un utente specifico o che parta con tutti gli utenti oppure possiamo semplicemente selezionare tutte queste voci e fare elimina saranno eliminate e non partiranno più col sistema l'unità di pianificazione ci permette di attivare delle procedure o comunque dei programmi che partono all'avvio del sistema o vengono gestiti nel registro di sistema quindi qua possiamo andare a identificare e eliminarli stesso discorso vale per i servizi qui possiamo andare a gestire tutti i servizi che partono con il sistema possiamo dire per esempio tutti quelli che partono in modo automatico quelli che partono manualmente tutti quelli che partono in maniera diciamo sono stati disattivati in questo caso dobbiamo andarli a selezionare e poi scegliere il modo con il quale questi vengono avviati diciamo menu contestuale ci dà la possibilità di introdurre voci nuove o comunque rimuovere le voci già presenti nel menu contestuale in modo che queste non siano più presenti e quindi non possano essere più gestite diciamo dal sistema poi se andiamo su ripristino configurazione del sistema andiamo a gestire i punti di ripristino quindi possiamo creare un punto di ripristino andare ad avviarlo e quindi ripristinare il sistema in base a quel punto oppure eliminarlo riparazione di windows ci dà la possibilità di appunto ancora una volta creare un punto di ripristino ripristinarne uno se è già presente riparare i dischi rigidi quindi fa un controllo sui dischi e va a verificare che l'integrità sia a posto aprire il driver dispositivo ci fa vedere la finestra dei driver e qua possiamo vedere se c'è qualcosa che non va oppure possiamo riparare i file di sistema cliccando qua lui utilizzerà il ISM quel famoso comando che abbiamo visto nei 10 comandi DOS vi lascio il link in descrizione che vi permetterà di scaricare un'immagine di una ISO di windows perfettamente funzionante assolutamente certa certo che funzioni e ripristinarla nel vostro sistema per farlo per farlo diciamo tornare a funzionare correttamente in caso di problematiche poi in esplora file qua si possono correggere tutte le funzionalità e problemi legati a esplora file per esempio possiamo correggere l'icona del cestino che non compare più possiamo anche correggere c'è un errore per il quale ogni tanto l'icona del cestino appare vuota anche se contiene file o viceversa possiamo riparare anche quella possiamo andare anche a fare riparazioni che riguardano il sistema quindi messaggio di errore task manager è stato disabilitato dall'amministratore abilitare i snap in ripristinare non so la visualizzazione foto e così via quindi qua abbiamo tutte le modifiche che riguardano il sistema stesso discorso per le finestre per le connettività un elenco infinito di opzioni vi consiglio di guardarle una per una e scegliere quelle che eventualmente vi servono qua c'è anche qualcosa di molto interessante ossia la possibilità di ripristinare un errore che capitava con Windows 10 una volta installato l'aggiornamento di Windows i file office non funzionavano più sistema anche quello quindi questo sinceramente è assolutamente carino anche diagnostica Internet Explorer non so diagnostica della rete e così via quindi sono veramente tante le opzioni di sistemazione che ci dà su estensioni file qui ci dà anche la possibilità di andare a sistemare i problemi relativi ad alcuni file può capitare magari che i file cmd non vengano aperti correttamente perché abbiamo erroneamente associato ad essi un file non valido facciamo ripristina estensione file predefinita e Windows reimposterà l'impostazione standard di apertura per quel file per quel tipo di file archivio di Windows qua ci permette anche di praticamente trovare soluzioni automatizzate per questi problemi quindi la game bar non si apre clicchiamo qua e facciamo ripristina la fotocamera non funziona boom anche qua non so microsoft lock up non va clicchiamo e la attiviamo se uno per assurdo volesse ripristinare il news in seguito alla cancellazione tramite software di debloating o tramite tweak power qua lo potrebbe reinstallare registra nuovamente qui abbiamo la possibilità di far sì che alcune app che alcune volte magari non si aprono perché non funzionano in maniera corretta possono essere ripristinate di messa in funzione riscaricandole magari dal windows store poi abbiamo ancora informazioni sul sistema beh ci dà informazioni su questo sistema non lo guardiamo neanche informazioni sull'hard ci permette di avere informazioni specifiche quindi il sistema operativo che sta girando versione directx l'utente vari codec installati librerie questo ci interessa relativamente opzioni di alimentazione invece è molto carino perché ci permette direttamente da questa finestra senza andare in opzioni risparmio di energia bla 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 di impostare le prestazioni massime bilanciate o risparmio di energia in caso di desktop attivate sempre le prestazioni elevate in caso di laptop bilanciata o risparmio energetico a seconda di quanto volete che duri la vostra batteria poi a questo punto sul limite qui andiamo a vedere il monitor delle prestazioni di sistema windows ha una specie di tool integrato un tool integrato vero e proprio che fa un benchmark in base all'hardware che il nostro computer possiede e dà una valutazione il mio computer vale 9.1 quindi discretamente buono a livello di ram discretamente buono il processore ottimo a livello di grafica per i giochi ottimo a livello scheda video ciò che abbassa un pochino la media è il disco è un ssd di quarta generazione non so perché gli metta uno vabbè comunque 9.1 e quindi a 9 comunque è una buona valutazione ma potrebbe essere migliore poi su hdd ci permette di avere una serie di tool specifici per i disc quindi disc doctor riparazione e verifica dei dischi defragmentazione che non va mai fatta sugli ssd perché ripeto gli ssd sono soggetti ad usura con la defragmentazione la vita media del disco diminuisce cerca file duplicati cancella i collegamenti a file e cartelle non più disponibili splitta i file molto grandi se vogliamo trasportarli su dispositivi magari tipo chiavette rischi esterni così possiamo dividerli e trasportarli più agevolmente disk space analyzer va ad analizzare come lo spazio del nostro disco è utilizzato in questo caso il mio disco C la cartella che occupa di più è la cartella mia personale con i dati quindi 526 giga e tutte le altre occupano una quantità variabile di spazio possiamo andare per esempio poi da qui andare nella cartella specifica andare a cancellare file per recuperare spazio recover dated file questo è molto carino perché apre un tool suo interno che ci permette di andare a recuperare file cancellati accidentalmente come detto quando Windows fa la cancellazione dei file lo dicevamo in un video precedente a questo il file non viene fisicamente cancellato viene segnato come cancellabile e Windows lo lascia lì lo spazio che occupa su disco però se il disco è particolarmente vuoto e abbiamo molto spazio disponibile magari non viene occupato subito da altri file quindi quel file potrebbe essere recuperato con questo tool va ad analizzare i file cancellati verifica la qualità dello stato infatti se è recuperabile o meno e ci permette di salvarli su un supporto esterno per recuperarli quindi questo potrebbe essere particolarmente utile AES encryption file ci permette di creare file e cartelle criptati accessibili solo tramite password quindi per i nostri file personali magari che non siano leggibili a tutti nella sezione strumenti abbiamo la possibilità di fare un backup e ripristino del registro di deframmentare il registro qua registrazione deframmentazione vabbè senza senso ci permette di fare la compattazione la pulizia e l'ottimitazione del registro recuperando spazio e velocizzandolo e di installare aggiornamenti e programmi questa è una funzione molto molto carina perché ci permette di analizzare i file che abbiamo i programmi che abbiamo installato nel nostro disco di andare a verificare se esistono delle versioni quindi qua possiamo andare a rimuovere i programmi che abbiamo installato anche da qui tra l'altro selezionando i diversi possiamo fare l'installazione multipla su aggiornamenti lui andrà a controllare quelli che abbiamo installato e se è in rete tramite winget sono presenti aggiornamenti in questo caso li possiamo selezionare tutti e fare install aggiornamenti a quel punto automaticamente da questa finestra potremo aggiornare tutti i programmi per i quali sono presenti aggiornamenti rileva pacchi non stiamo facendo gli spedizionieri ma semplicemente va a controllare i service pack che abbiamo installato o comunque in questo caso lui richiama pacchi sono applicativi aggiuntivi mettiamo che vogliamo installare open office qua scriviamo open office identifica open office lo selezioniamo e lo andiamo ad installare in questo modo non dobbiamo passare per il sito lo sviluppatore pagina di download magari registrazioni ok qua installiamo direttamente il software molto 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 utile su questo winget ragazzi è brevissimo faremo un video dedicato vi spiegherò come funziona uno strumento anche questo molto molto potente su ottimizza abbiamo la possibilità di avere un'informazione diciamo generale del sistema e di applicare delle ottimizzazioni cliccando su impostazioni come prima abbiamo la possibilità di applicare dei tweak per rendere il nostro sistema più agile e scattante quindi abilitare l'avvio rapido ridurre il time out per terminare i servizi o l'app capita molte volte magari che riavviando il computer ci sia un'app che non si chiude correttamente l'arresto e il riavvio vengono bloccati e ci compare la finestra che dice guarda che questo applicativo sta bloccando il riavvio o l'arresto in questo caso riduce automaticamente il time out e l'app viene terminata brutalmente se lo andiamo a selezionare qua compare sì applicando le impostazioni queste vengono applicate appunto al sistema e vengono messe in funzione possiamo arrestare automaticamente i processi senza richiesta di arresto quindi alcuni programmi per esempio notepad non so visual studio photoshop se abbiamo un lavoro che non è stato salvato possono interrompere la procedura di riavvio e di arresto nel sistema dicendo guarda che tu questo lavoro lo stai lasciando a metà potrebbe servirti in questo modo forziamo sempre la chiusura fregandocene dei programmi che rimangono aperti io vi sconsiglieri di usarlo però e anche qua abbiamo ancora la possibilità di restare i programmi che più velocemente che non si chiudono possiamo disabilitare le modifiche a registro del computer remoto quindi possiamo evitare che il nostro computer da scrivere magari in remoto delle informazioni rallentando lo spegnimento e il riavvio anche qua riavvio automatico di interfaccia explorer in caso di arresti anomali vuol dire che quando c'è un problema di windows explorer si chiude lo schermo diventa nero tutte le icone scompaiono explorer si riavvia e piano piano si riattivano le icone la barra e tutto il resto in questo modo possiamo fare che se c'è un arresto anomalo del nostro computer explorer non si riavvii perché ci può essere utile perché magari siamo via ci sono una serie di arresti anomali quindi di riavvie non sapremo mai che sono avvenuti se non guardando il registro in questo caso torneremo al pc vedremo lo schermo nero e a quel punto sapremo che è avvenuto un arresto anomalo per fare una verifica anche qua possiamo andare appunto a rimuovere ancora disattivazione spazio che state facendo ecco poi qui sotto su ottimizza servizi possiamo cliccare questo è anche molto interessante perché possiamo andare a scegliere avvio sicuro avvio ottimizzata possiamo andare a scegliere questa opzione e poi applicarla e lui sulla base di una preconfigurazione andrà ad attivare disattivare quei servizi che non sono magari necessari al sistema che lo rallentano che occupano spazio in memoria che non sono fondamentali facendo applica i servizi vengono applicati il pc sarà riavviato quindi attenzione che prima di fare questa cosa chiudete tutto e fatela solo quando siete sicuri di poter riavviare il vostro computer poi attivizzazione effetti visivi anche questo è molto utile perché su pc magari più lenti più vecchi con poca RAM e processore più lento abbiamo la possibilità di selezionare queste opzioni quindi possiamo adattare questa per visualizzazione ottimale attiva tutti gli effetti e rende più piacevole la visualizzazione nel sistema oppure possiamo avere quest'altra che toglie tutto prestazioni ottimali viene preferita la prestazione rispetto alla bellezza diciamo del sistema e questa qua personalizzata ci permette appunto di avere la configurazione di default dove ne mette una serie lui e possiamo scegliere ottimizza ora anche qua applicherà tutte le ottimizzazioni stesso discorso per ottimizza connessione internet anche questa è molto utile selezionando la scheda di rete di cui è dotato il nostro pc vediamo l'indirizzo ip attuale qui possiamo andare a identificare la velocità della nostra rete quindi in questo caso io ho una DSL no in realtà ho una 100 megabit quindi WDSL esatto questa qui cliccando ottimizza ora lui applicherà tutta una serie di configurazioni sulle prestazioni sulla configurazione della rete e riaprirà il pc a quel punto il pc dovrebbe essere teoricamente più rapido nel gestire le connessioni di rete quindi la rete dovrebbe essere un pochino più veloce poi su sintonizzazione intelligente questo è fighissimo perché ci permette di impostare in maniera rapida il pc per cosa lo usiamo quindi il nostro pc attualmente viene utilizzato pompato al massimo per il gaming qua possiamo abilitare la barra di gioco possiamo abilitare la modalità gioco ottimizzata per prestazioni migliori in termini di gioco perché quando attiviamo la modalità game lui interviene su tutti i processi attivi in memoria e li limita per far sì che il pc sia pronto a dare il massimo nella sessione di gaming e tutto il resto del sistema sia rallentato manutenzione automatica questo è molto interessante perché possiamo impostare una serie di manutenzioni quello che abbiamo configurato per intenderci che venga eseguito ogni giorno in determinato orario oppure forzare l'esecuzione manuale centro backup qui abbiamo la possibilità di fare ancora un ripristino del sistema e tutto il resto abbiamo la possibilità di vedere i punti di ripristino e ripristinarli direttamente da questa opzione bene questo video giunge al termine grazie per essere qui ancora a fine video e ringrazio tutti quanti per il supporto enorme che mi state dando ringrazio particolarmente Marco Giovanni e Laura per la sottoscrizione di un abbonamento al canale che mi aiuta a crescere a investire in attrezzature e anche prodotti da portarvi in recensione ringrazio anche tutti quelli che ogni giorno scrivono dei commenti perché come detto prima io li tengo in grossissima considerazione e mi baso su questi commenti per i prossimi argomenti e soprattutto cercando di trovare le soluzioni più adeguate a tutti i problemi che vi si presentano di volta in volta se il video ti è piaciuto per cortesia iscriviti al canale e fai in modo che diventi virale il più possibile condividono amici conoscenti parenti perché mi piacerebbe che tutti quanti potessero trovare utili queste informazioni e diciamo migliorare il proprio livello di utilizzo del pc grazie e al prossimo video grazie